ciao a tutti e bentornati sul mio canale oggi parliamo di questo pratico infusore monodose riutilizzabile come sempre prima di provarlo vediamo come viene mostrato sul sito dal venditore ok vediamo che sul davanti a questo pratico sportellino che aprendolo qui ci si mette l'infuso e si chiude una volta che l'infuso ha lasciato tutti i suoi aromi si preme questa palettina in alto e come vedete scende qui strizza l'infuso che c'è dentro così noi possiamo buttarlo via usandolo come compost o come si vuole buttarlo via semplicemente e beviamo la nostra tisana il nostro infuso quello che vogliamo proviamolo allora ok ora prendiamo la nostra tazza di acqua calda il nostro infuso apriamo lo sportellino e ci mettiamo dentro l'infuso ovviamente essendo così tagliato minuziosamente è possibile che qualche briciola esca dal dei buchini ora chiudiamo e infiliamo nell'acqua lo lasciamo in infusione per il tempo che vogliamo e noi ci vediamo tra poco come vi dicevo prima qualche briciolina è scappata ora estraiamo l'infusore strizziamo con questa palettina vedendo che esce dall'acqua prendiamo un piattino apriamo l'infusore e votiamo lo risciacquiamo ed è pronto per il prossimo utilizzo in conclusione io direi che è un oggetto molto utile ecologico ed economico utile perché è utile fuori dubbio economico perché gli infusi o i tè già confezionati costano di più ed ecologico perché sempre quali già confezionati usano sprecano molta carta ok per oggi è tutto io vi ricordo come sempre di lasciarmi un bel like su questo video di commentare se anche voi avete acquistato questo oggetto ed iscrivervi al mio canale per non perdervi i miei prossimi video ciao 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 ciao